Ciao a tutti, sono PlayerDay, due giocatori incapaci e continuiamo questo let's play. Allora, eravamo rimasti dove dovevo comprare un visore, infatti l'ho comprato, infatti stavo facendo un video però poi ovviamente il gioco deve crashare perché è stronzo. Se vedete che ho tutto st'equipaggiamento, tipo il visore al massimo, è perché ho provato la co-op con un amico, non è niente di speciale, è tutta facoltativa, non serve a nulla per la storia. E vabbè, penso che sia molto utile questo visore al massimo, poi ho cambiato anche la tuta, non ho più soldi, vabbè. Cominciamo subito la missione. Aspettate un attimo. Ok, scusate, cominciamo la missione. Ci siamo tra... Andiamo a una villa privata. Io stesso. Sam, abbiamo un problema. Sulla rete è pieno di gente che pensa che Cobin sia stato preso per fare affari con lo zio Sam. Come l'hanno scoperto? Da noi. Noi. Grimm non te l'ha detto. Dopo Chicago siamo rimasti senza una traccia. Ci hai detto di cercare Sadiq, serviva Unesca. Non mi hai consultato. Tu puoi prendere decisioni sul campo, ma noi non possiamo eseguire un piano. A che cosa ci serve esporre Cobin? Reza nuri. Un'ora dopo che ho divulgato i dati su Cobin, la mail mi era già stata in mostrata decine di volte. Software tracciante. Cimice web da un pixel. È l'unica foto che abbiamo. I dati che abbiamo confermano. L'NSA pensa che Muri sia legato all'Iran. Immagini caricato, Grimm. Grazie. Vivi in una cortezza. Sicurezza ai Tec, ex militari di guardia. Però è una villa e non è proprio una cortezza. In quella cortezza ho esattamente quello che fa per te. Ovvero? Cosa c'è? Lo vuoi ora? Perché sai, non è esattamente finito. Io vado subito a prenderlo. Eh, muovite. Cosa facciamo? Andiamo. Resanuri sa che ti hanno preso. Ti tirerete un'informatura? Merda, come l'ha scoperto? Sfortuna, penso. Voglio sapere cosa lo preoccupa. Non lo so. Io fornisco le armi, lui gli uomini. Abbiamo... molti amici in comune. È un trirotore con un condensatore ad alta capacità ed è MP. Ci sto ancora lavorando, ma se serve disattivare un sistema di sicurezza... Lì dentro che c'è? Fermi te. Me l'hanno data degli amici che... Vanno in missione ogni tanto. Aggiungila alla mia... C'è qualcos'altro che vuoi dirmi, Copi? Prima che ti da un po' de botte. Ho un uomo che... Lavora per la security di me. Posso scoprire cosa sarà. Al lavoro. Ok, andiamo. Casa di Nuri è perfetta per le imboscate. Fammi portare sotto il rotore, va. Se vuoi invattare gli equilibri, IMS suggerisce mine e microcamere. Eh... Questa non la userò molto tanto c'è lacrimogeno. Ma no! Come lo devo pagare? Ma siete proprio stronzi, Seda. Fatevelo dire. Non era gratis. Mamma mia. Vabbè, andiamo. Almeno ho il visore al massimo. Adesso non mi ferma più nessuno. Dai, dai. Penso che sarà facile infiltrarsi alla vita. Sembra incredibile, ma sì. Nuri ha una panicrome. C'è un problema, però. L'informatore non sa dove si trovi nella tenuta. Perfetto. Vuoi cambiare piano? No. Può tornarci utile. Se Nuri si sente alle strette, sapremo dove cercarlo. Come facciamo a spingerlo nella panicrome? Facciamo saltare la corrente. Dammi accesso alla security per trovare il quadro elettrico e siamo a posto. Posizione. Dai verso il cancello principale. Carico i dati sul tuo offset. Ok, andiamo. Eh, Giadu Guardia, che è? Ma cosa è arrivato? Si già messavano per scoprire pure, vabbè. Ci stanno altri due qua. Mi sa che m'ha visto. Sì, m'ha visto. Vabbè, me lo ammazzo. Mi conviene nasconderlo perché qua c'è stanno due. Ma funziona sto... Ah, proprio ne posso usare le esecuzioni lì. Vabbè, dovrei averlo già capito, in realtà. Ehm, come si cambia? Ah, giusto. Ma che cazzo serve sto sonar se tanto non ci vedo attraverso i muri? Forse per... come oggi. Vabbè. Dai. E qua? Anzi, no, vabbè, non ce n'è bisogno. Speriamo a non vedere il cadavere. Speriamo gli sordi. Ok. Meglio richiude. Questa luce ne possiamo anche fare a meno. Questa luce ne possiamo anche fare a meno. Parlagli davanti, tanto non te sente nessuno. E tra qua dentro. Allora. Dov'è il cane di merda che odio? Cosa deve guardare? Vieni, 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 vieni. Muori. Arriva il cane che deve sempre rompere i coglioni. Muori, stronzo. Ora penso che lo vede pure, ma sti cazzi. Intanto l'ho superato. Basta che non si gira a caso. Perché l'ha chiusa con questo? C'è l'aperta in questo mondo. Vabbè. Eh, mi sa che mi hai scoperto un po' troppo tardi. Ok. Ma... Un momento. Ah sì, li sta ammazzando. Eh, io li voglio ammazzare. IMS non sbagliata. Ho raggiunto la stazione di controllo. Niente, mi ha mai resistito. Se connetti Charlie, possiamo dirotare il feed video sull'IMS e usare il riconoscimento facciale per trovare muri. Eccolo, Sam. Sta entrando. La porta finestra sembra una falla nella security. Confermato. Le ombre ti faciliteranno l'accesso. Dobbiamo togliere la corrente. Le camere che ci danno una buona visuale? In arrivo su nuovo. A parte che cazzo l'ho comprato a fare il visore se tanto non lo sto usando. La visione vicina. Per essere collegato al quadro elettrico principale. Vado. Spero che poi sarà utile. Se viene la finestra su retro, se la sto aprendo. Fatto. Grazie. Puoi andare. Oh! Che cazzo fai stronzo? Non guarda qua. Qua non me possono vedere proprio. Oh! In cascata eh! Vabbè, sì dai. Potrebbe essere utile. Almeno rileva il calore. Saltamogli addosso. No, non posso, ne so. Ma... Dobbiamo far rifugiare Nuri nella Tenic Room. Usa il trirotore MP per staccare la corrente prima di entrare nella villa. Ma non ce l'ho il trirotore. Non me l'avete fatto... Lo dovevo pagare, stronzi. Non c'avevi soldi. Perché mi dite che usa il trirotore? Che bello, non mi vede. Se la faccio a non farmi scoprire? Mi sa di no, c'è troppa gente. Vabbè, ammazzo questo e poi vado. Eh sì, vabbè. Non sanno dove sto... No! Vaffanculo. Non sapevano dove stavo. E guarda il cane... Un altro cane, vabbè. Ti rompi i coglioni. Ti facciamo come prima. Ma perché vuole entrare in casa quello? Non era guarda. Non era guarda. Non erano fuori. Non erano i coglioni. Non erano i coglioni. Non erano i coglioni. Non erano gli coglioni. Uno dei nostri è a terra. Gli spari venivano da lì. muori pure tu stronzo no vaffanculo muori mi ha sparato merda no il cane mi sente il cane mi sente stronzo ah meno male ce l'ho fatta ok come con i nemici nelle vicinanze ma non c'è nessuno mamma mia se questo è il cane lo stupro eh e dai ok andiamo avanti e questo da te è sbugato non muovo le la te da vabbè meglio così attento Sam fa ancora un po' di rumore e l'MPG installato non aiuta adesivo elettrico figo io do la scossa devi salire ah oh attento non cade non cade vabbè lo cazzo sto passando oddio come come mi abbasso non so buono a cui da sto coso ah cioè stava scritto vabbè dettagli tanto lo supero senza farmi vedere intanto non mi vede guarda vaffanculo stronzo no me l'ha rotto guardate questi attento Sam fa ancora un po' di rumore l'MPG installato non aiuta vabbè i primi due che ho incontrato già mi hanno scoperto vabbè devi salire sì lo so cosa devo fare no è vero non ho sbattuto ok Sam sei vicino a un quadro elettrico ma non mi rompercazzo pure te non mi rompercazzo che bello dargli la scossa così devo fa' ah devo esplode oh figo si ma come ci sargo su sto barcone qua su sta cosa ecco oddio pensavo che mi stessero per scoprire infatti stava per succedere no il cane no il cane no il cane no non può rompere il cazzo così sto cane di merda a parte perché sto ammazzando qui ma che cazzo vabbè ma la porta si è si è ricomposta non lo so l'avevo distrutta prima ho marcato due possibili vieta scelto una dal balcone e una dalla porta laterale le carico sull'opstat guarda questo e deve tirare il flare dopo qua mamma mia ma ti ammazzo perché mi hai rotti i coglioni pure Sam abbiamo un problema l'IMS rileva un veicolo nero che è passato più volte davanti alla tenuta di Nuri sento del farsi sulle frequenze oh e non cade pure te ma lo fai cadi stronzo si come faccio a catturarlo ma dai sto cane sempre sempre in mezzo devono stare questi stai fermo un secondo ti stai fermo un secondo cane di merda ma mo se questo me scopre lo voglio catturare perché mi servono money i big money mi servono ma appena si gira lo fotto ok andiamo e questo che cazzo è ma dai ma quanti cazzo so managgia a me che non vede il radar ma io lo volevo ammazzare ah vabbè ho capito come fa muori aspetto che viene qua lo stronzo ed ecco il cane che ovviamente deve rompere le palle ma è ovvio ma è ovvio no no e scendi da qua cosa fai scendi intanto non mi vedono qua non mi possono vedere ormai me ne sono andato no ma dai ma che è mortale cioè vabbè se volete continuare a vedermi fallire mettete un mi piace commentate iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo al prossimo video bella ciao 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 ciao